Formazione per gli audioprotesisti è anche momento d'incontro tra università e aziende e oggi si è espresso questo concetto in particolare in una tavola rotonda moderata da Luigi Infantino che è proprio il responsabile della formazione della Federazione Italiana di Audioprotesisti nella quale c'è stato un interessante incontro tra la platea di studenti tecniche audioprotesiche e rappresentanti di risorse umane ma non soltanto di alcune tra le principali studenti italiane. Come lavorate dal punto di vista di questa formazione e quindi di favorire questo tipo di incontro e quali sono gli obiettivi della formazione FIA? Diciamo che l'incontro di stamattina nasce da un'esigenza che è quella delle università di mettere in contatto il mondo del lavoro con il mondo degli studenti. E' ovvio che questa cosa è stata fatta un po' più in grande qui perché avevamo una platea più ampia, avevamo la possibilità di ospitare gli studenti ma come ANAP in realtà è da diversi anni che nelle università che ce lo chiedono cerchiamo sempre di fare da punto di incontro tra questi due mondi e di mettere a fattore comune una realtà che sicuramente è la nostra e oggi offre ancora fortunatamente il 100% di impiego a un anno dalla laurea. Sono dati che il sole 24 ore e altre di vista di settore abbastanza attendibili, anzi attendibilissime, ci confermano di anno in anno. A questo proposito, lei ritiene che gli audioprotesisti attualmente siano sufficienti o potrebbe addirittura verificarsi l'eventualità che sia più necessario ancora invitare persone a iscriversi a questi corsi? Non sono io che ritengo che siano sufficienti e il Ministero della Salute con dei dati che ancora non sono ufficiali e definitivi però abbiamo degli studi che stanno attualmente ultimando degli uffici per posti di statistica del Ministero della Salute che dicono che nei prossimi anni, nel prossimo decennio, forse anche nei prossimi 15 anni la platea degli audioprotesisti sul territorio italiano dovrà aumentare perché aumenteranno il numero di persone che avranno necessità di un ausilio protesico perché cambieranno anche le esigenze del nuovo anziano anche una domanda di quella di stamattina era proprio quella, il nuovo ottantenne di domani sarà un sessantenne di oggi che è già formato con una cultura più impegnata a livello sociale e che quindi fra qualche anno avrà delle esigenze che sono sicuramente diverse dall'anziano di ieri. Facendo riferimento alla sua esperienza in questo ambito, lei ritiene che le esigenze degli studenti siano le stesse delle esigenze delle aziende oggi o c'è ancora una cultura da creare in questo contesto e di conseguenza come si fa e in quale direzione? Sicuramente c'è qualcosa da sviluppare e sicuramente c'è qualcosa da far incontrare meglio ma questo non succede solo nel campo dell'audioprotesi, è il mondo del lavoro che in effetti non è in grado in tutto e per tutto di accogliere quelle che sono le richieste degli studenti e sono gli studenti che non sono in grado in tutto e per tutto di essere già pronti al mondo del lavoro quindi è qualcosa da migliorare. Su cosa io non ho una ricetta da dare però probabilmente un incontro come questo di oggi che fa da facilitatore e da incontro col tempo potrà aumentare questa sinergia sin da subito. Grazie dottor Infantino, buon lavoro. Grazie.